Ciao a tutti amici, ben ritrovati in questo nuovissimo video. Come sempre vi do il benvenuto qui sul canale o sulla pagina ovunque vogliate e vi dico, apriamo una piccola parentesi, iscrivetevi se siete interessati a tutti i tipi di notizie perché io porterò tutto quel che riuscirò a portare, quindi spasierò dalla politica al gossip e a tanto altro. Detto questo è stato aperto il testamento di Silvio Berlusconi, quello reale, quello vero, è stato fatto proprio stamane ore 11, è stato aperto in maniera proprio ufficiale presso lo studio del notaio Arrigo Roveda in via Mario Pagano a Milano. C'erano però solo due testimoni, ma non era presente nessuno dei cinque figli aree di Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora, Luigi. I due testimoni erano sicuramente Luca Fossati, un avvocato dello studio Chiomenti, consulente storico del gruppo Fininvest e un altro personaggio vicino alla famiglia. Potrebbe essere Giuseppe Spinelli, il ragioniere presidente delle holding italiana prima, seconda, terza e ottava, di proprietà di Silvio Berlusconi che hanno il 61,2% di Fininvest. I cinque figli invece conosceranno il contenuto delle disposizioni del padre solo oggi pomeriggio attorno alle 16, sempre davanti al notaio. Da quel che è trapelato finora, le ultime volontà del fondatore dell'impero confermano le aspettative sorte sin dalla sua morte il 12 giugno. Il controllo della Fininvest resta saldamente nelle mani di Marina che ne è presidente e Pier Silvio che guida MFE Mediaset. Agli altri tre figli andranno asset secondo le regole testamentarie ma non avranno poteri nella conduzione del gruppo cui fanno capo MFE, Mediolanum, Mondadori. Il contenuto del testamento verrà divulgato solo dopo la registrazione, sempre da parte del notaio Roveda, presso il registro generale dei testamenti, collocato all'interno del Ministero di Giustizia. La registrazione avviene per posta elettronica semplice o certificata rispettivamente agli indirizzi registrogeneraletestamenti.ucanchiocciolagiustizia.it registrogeneraletestamenti.ucanchiocciolagiustiziacert.it allegando al modulo. Compilato copia semplice del documento di identità del richiedente se la richiesta riguarda esclusivamente il registro generale. La registrazione si rende necessaria al fine di rilasciarne copia a chiunque, previo pagamento dei relativi diritti di copia. Il tutto comporta alcuni giorni. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.